Gentili telespettatori, buona giornata. Quinta votazione per il Quirinale. Il centrodestra vota la Presidente del Senato, la seconda carica dello Stato, Elisabetta Casellati, la sinistra, dice no e non si presenta all'incontro stabilito con Salvini per trovare un accordo. Il Presidente della Camera, Roberto Fico, ha convocato così la conferenza congiunta dei capi gruppo. Negli ultimi giorni diverse forze politiche, a partire da Italia Viva, aveva chiesto di valutare un'accelerazione nelle operazioni di voto per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, procedendo a due scrutini al giorno. Si deciderà dunque se votare due volte al giorno e poi la decisione viene, è presa, si voterà questa mattina, si è già votato e poi questo pomeriggio. Letta dice mi sto chiedendo se ho fatto bene a fidarmi e siamo stati portati in giro per tre giorni e il commento del segretario del PD Enrico Letta sulle ipotesi avanzate dal centrodestra. Abbiamo sempre lavorato per l'unità, l'impressione è che abbiano tentato di dividerci con idee fantasiose invece di trovare un nome per l'unità del Paese. Naturalmente le sue sono delle giustificazioni di parte. Conte alla Camera incontro con Letta e Speranza, non invece è previsto alcun incontro tra Letta e i leader del centrodestra. Poi Renzi non escludo più un Mattarella bis, dice su Radio Leopolda, e non esclude l'ipotesi che possa esservi anche un Mattarella bis. Sarebbe una forzatura nei confronti di Mattarella e oltremodo scorretto, ma al venerdì mattina o la vicenda si risolve nelle prossime ore o questa ipotesi è in campo con tutta la sua forza. Se il centrodestra ritiene di dover giocare perfino la carta della seconda carica dello Stato, evidentemente credo che sia l'ultima carta che vogliono giocare prima di un eventuale accordo. Il presidente d'Italia Viva, Ettore Rosato, ha aggiunto Noi casellati non la votiamo come non votiamo nessun candidato divisivo, come abbiamo sempre detto, ma il centrodestra la smetta di correre dietro la Meloni che tenta di far saltare la maggioranza di governo. Tagliani dice che il governo non c'entra niente a dare rassicurazioni sulla tenuta del governo, è stato il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tagliani arrivando a Montecitorio. Dobbiamo lavorare, stiamo valutando, c'è il rischio di una spaccatura della maggioranza di governo. Lui risponde che il governo non c'entra niente, è ufficiale, il centrodestra ha votato casellati, sono in corso gli scrutini, tra poco vi dirò. Se, Avemus, presidente della Repubblica, lo ha deciso il vertice dei leader di centrodestra, puntare alla prima chiamata su Elisabetta Casellati, la seconda carica dello Stato, la presidente del Senato. È il momento che si verificano i numeri in aula, che si ponga fine a questa cosa incomprensibile del non veto e del non voto e delle schede bianche. È la convinzione di Giorgia Meloni, secondo la quale il centrodestra deve dare prova di compattezza. Votiamo casellati, è istituzionale, ha detto il forzista Tajani. Per Toti, coraggio Italia, offrire la seconda carica dello Stato come nome per la Presidente della Repubblica non è un atto così eversivo. Vediamo se ci saranno i voti in Parlamento. Votare casellati significa anche per tutto il Parlamento lasciare Draghi dov'è e andare avanti con lo stipendio fino a fine mandato. La Capigruppo ha deciso, seconda votazione alle 17. La riunione dei Capigruppo di Camera e Senato ha approvato la doppia votazione quotidiana per l'elezione del Presidente della Repubblica. Si parte già da oggi con una votazione alle 17. Per sabato sono previste invece votazioni alle 9.30 e alle 16.30. No, mi fanno votare i politici per caso il sabato. Ma magari avevano già previsto di farsi la passeggiatina in centro, dovevano mangiarsi la carbonara, due spaghetti. Ma me li fate lavorare anche il sabato. Ma non si fa così. Questo è sfruttamento del lavoro. Non si fa. Bene, a parte gli scherzi, che poi non sono troppo degli scherzi, la doppia votazione quotidiana quindi lascia intendere che alle 11.00 possa essere risolutiva. Probabilmente oggi si potrebbe arrivare già all'elezione del Capo dello Stato. Incontro Salvini-Renzi. Italia Viva non risponda alla chiama. I due Mattei, Salvini e Renzi, si stanno incontrando in questo momento alla Camera. Un SMS dello stesso Renzi invita i delegati di Italia Viva, letto da Enrico Mentana durante la maratona sulla 7, invita a non rispondere alla chiama, distinguendosi dal centro-destra, che voterà casellati. E dal presunto centro-sinistra, così nell'originale, che si asterrà. Renzi avrebbe poi detto che si potrebbe chiudere alla sesta votazione, cioè nel pomeriggio, se questi la smettono con X Factor. Ad Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia, viene invece attribuita la presse, la frase, abbiamo la possibilità sul serio di tentare il blitz e cercare di vincere la partita. E intanto è avvenuta la quinta votazione. Italia Viva, un nuovo gruppo potrebbe nascere al Senato, si chiamerebbe Costituzione Ambiente Lavoro e avrebbe come simbolo quello dell'Italia dei Valori. Dovrebbe raccogliere ex 5 Stelle e avere come capogruppo Elio Lannuti, già paladino dei consumatori, con l'Adus Bef eletto all'ultimo giro con i 5 Stelle, ma in precedente, esponente proprio, dell'Italia dei Valori. Così la quinta votazione si è conclusa. Il posto di Salvini pro Casellati. Matteo Salvini, sui suoi profili, un endorsement a Elisabetta Casellati, pu senza citarla personalmente. Una donna delle istituzioni al Quirinale, un onore proporla. Si legge una card azzurra, abbordata dal tricolore, una firma in corsivo del segretario della Lega, Matteo Salvini. PD, Leo e 5 Stelle, Italia Viva non partecipano alla prima chiamata. Si valuterà la posizione sulla seconda. Meloni, l'unica soluzione sono le elezioni. Con questo Parlamento non si può decidere niente. Giorgia Meloni la butta lì ai cronisti, a Montecitorio. Panico tra i peones di tutti i partiti. Fratelli d'Italia, in ogni caso, non si sottrarrà al voto per Casellati. Voteremo compatti sul candidato proposto dal centrodestra per verificare i numeri e superare lo stallo. Vedremo quali sono i numeri in aula e poi faremo le valutazioni necessarie. Berlusconi dice tutti votino Casellati. Appello di Berlusconi, la conosco da 30 anni, garantisco sul suo ruolo. Super partes. E poi Letta, Conte e Speranza. Ci asteniamo dal voto. E poi centristi al lavoro su Casini. Letta, Conte e Speranza disertano l'incontro con Salvini a mezzogiorno. E Salvini dice Casellati, miglior candidato dopo Mattarella. Conte parla di cortocircuito istituzionale. Alle 14.30, nuovo vertice del centrodestra. Il PD. Inopportuno che Casellati presieda lo scrutinio. Salvini dice, mi ha chiamato Letta per vederci, non voglio essere scortese. Matteo Salvini liquida così. I cronisti intervenuti alla Camera. Poco prima aveva parlato davanti alle telecamere di fuga del centro-sinistra, ma aveva lasciato aperto la porta ad un confronto. Se hanno dei profili migliori da proporre, lo facciano e valutiamo. PD. Falso che Letta abbia chiamato. Salvini. Finita. Così la chiamata dei deputati. Vediamo che cosa succederà a breve. Grazie a tutti, arrivederci.